Un arrivo allo sprint decide la 58esima edizione del Gran Premio San Giuseppe, gara riservata alla categoria Elite Dunder 23 ed inserita nel calendario nazionale. Nel lungo rettilineo in ascesa verso il traguardo di Monte Cassiano ad emergere vincitore è Filippo Tagliani della Delio Gallina che conquista così il quinto successo stagionale. In seconda posizione alle sue spalle si piazza Gialel Duranti della Petroli Firenze Opla Maserati, terza piazza per il portacolori della Viris Vigevano Umberto Marengo. L'inizio di stagione è bellissimo davvero non sembra finire questo stato di forma perfetto. No, sto gestendomi bene e sono contento. I risultati arrivano per fortuna perché quando la gamba c'è non è mai facile vincere, quest'anno mi sta girando veramente bene. Noi vinte 5 più un challenger. Senti, una gara come questa era impegnativa, nonostante ciò sei riuscito a portare il gruppo in volata, è stato un finale perfetto per te? Sì, siamo andati piano oggi, io preferivo la gara più tirata perché arrivando in volata così tanti non pensavo di riuscire a far bene. Ho provato a vedere la situazione da andare in fuga anche da lontano ma non ce l'ho fatta perché non andando forte in salita rispondevano tutti bene. Poi ce l'ho fatta a vincere lo stesso. Grazie. Grazie.